L'ambiente si rispetta ma le regole non troppo. Ravenna e Forlì attuano sistemi per la raccolta differenziata diversi, che non sempre riscuotono successo da parte dei cittadini. Si è creato nei paesi della fascia, come scrive il resto del Carlino, una sorta di pendolarismo. I rifiuti sono aumentati in tutta la zona di confine tra Ravenna e Forlì. Da Case Murate a Filetto, da Borgo Sisa a San Pietro in Trento, da Santa Lucia nel Faentino fino a Cosina. Era rivelato infatti un aumento dei rifiuti in queste zone. Tra aprile e maggio la raccolta ha toccato quasi 500 tonnellate di rifiuti in più rispetto a un anno fa, a parità di popolazione. Extra registrati anche nei mesi precedenti, toccando punte di oltre 3.000 tonnellate di rifiuti. I problemi sono cominciati a gennaio, quando Forlì è passata la tariffazione puntuale. Ogni nucleo familiare può svuotare il bidone dell'indifferenziata solo tot volte. La quantità in eccesso è a pagamento. Alcune amministrazioni stanno pensando di installare telecamere e aumentare i pattugliamenti per dare uno stop ai furbetti dei cassonetti. Grazie. Grazie.